Presidente, una vittoria fondamentale per Lavastese, arrivata nel finale di una partita complicata, complessa, però alla fine è stata primata la squadra che soprattutto nel secondo tempo ci ha provato con maggiore convinzione. Sicuramente una vittoria meritata, una vittoria cercata e sofferta. Questo ho chiesto ai miei giocatori in settimana, di vedere se è una cosa mentale. Sono contento e felice di andare avanti così e vediamo di alzare questa classifica. Classifica alla mano, appunto, questo era uno scontro diretto in chiave salvezza tra due squadre che hanno un presente ed un passato importante. Insomma, questi tre punti sono davvero fondamentali per iniziale quella risalita in classifica che i tifosi si aspettano. Sono tutte parti difficili, non è un cambiamento molto difficile. Abbiamo affrontato una squadra molto esperta, soprattutto una squadra che ha fatto sembra la Slecci e sappiamo il valore loro. Adesso, questa sera è un successo importante, tre punti ci fa morale e questo per noi è molto importante. Vediamo domenica prossima che succede, voglio un ritmo uguale come stasera. L'obiettivo è far sì che ci sia una serie di risultati positivi per la sua squadra, Presidente. Ma guarda, io l'ho sempre detto, questa squadra non è stata costruita per fare i play-out, è una squadra costruita per stare in alto in classifica. Abbiamo avuto dei problemi, nonostante tanti sacrifici, però quando tu vai in mezzo al campo convinto di vincere la partita, riesci a ottenere tre punti che fanno morale e questi tre punti servono per andare a affrontare domenica prossima un'altra partita importante. Grazie per la visione. Valeu! Grazie.